Nidi gratis è un progetto educativo perché vogliamo che serva all'apprendimento dei bambini. Da tre mesi a tre anni, sì, è l'età in cui il cervello si plasma e quindi è bene che stiano in una scuola, quella dei nidi, dell'infanzia che la Toscana vuol vedere come protagonista perché attraverso 233 milioni, questa è la cifra necessaria per poterlo garantire a chi ha meno di 35 mila euro di reddito, possa diventare in qualche modo un input perché avvenga nel sistema della pubblica istruzione a livello nazionale o altre regioni ne vengano contagiate. È un servizio alla donna, è un servizio alla famiglia, ma è un servizio alla crescita dei nostri bambini, il nostro bene più prezioso. Quando qualcuno dice ma la Toscana lo fa, altre regioni non lo fanno. Noi abbiamo questi soldi che vengono a disposizione dall'Unione Europea. Ognuno li sceglie come ritiene opportuno. Se c'è in Toscana è perché noi abbiamo fatto questa scelta dei nidi gratis per i bambini sotto i tre anni.